Le piccole imprese, ma i parrucchieri, i barbieri ed altre piccole attività commerciali, ma anche medie, azzardo a dire, sappiate che chiuderanno i battenti. Questa è la mia opinione. Perché? Per quale motivo, per quale ragione andranno a chiudere de facto i battenti? Molto semplice. Perché la situazione del nostro paese a livello economico è messa molto male. A seguito di questo maledetto e fottutissimo coronavirus, covid-19. Ora, io ho a cuore il mio paese, io ho a cuore la sorte degli italiani, noi siamo tutti fratelli, come recita l'inno di Mameli. E mi dispiace, e lo dico pubblicamente, vedere che ci sono persone, quindi imprenditori, che si trovano sull'astrico o costretti a non avere la possibilità di riaprire i battenti per colpa di norme stringenti per quel che riguarda il loro settore di applicazione. E parlo di economia, parlo di esseri umani che potrebbero in teoria lavorare, ma che non riescono, in quanto la crisi è profonda grazie a questo covid-19 che ha paralizzato l'economia, però le bollette arrivano. Io so di persone che hanno ricevuto bollette addirittura da 1200 euro al mese e che non sanno come dover pagare queste bollette perché non ce la fanno, perché non riescono a far fronte a tale situazione. Ora, voi mettetevi nella condizione di immaginare una famiglia e magari il padre o la madre hanno dei figli, chiaramente, e uno dei due lavora a nero, l'altro invece lavora a un contratto. In questi tre mesi quello che lavora a nero, che può essere sia lui ma anche lei, non percepisce lo stipendio. Perché? Perché lavora a nero, non c'è un pezzo di carta, non c'è una pezza d'appoggio, va bene? Come fanno a tirare a campare? Come fanno a pagare le bollette? Qualcuno potrebbe bloccarmi e dirmi, ma Leandro? Ma allora Giuseppe Conte ha detto che dai 600 euro? Attenzione, non tutti sono riusciti a vedere questi beneamati 600 euro, ok? Perché, come ci insegna un bel detto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ok? Tra dire una cosa e mantenerla e metterla in pratica ci passa un abisso, un abisso intero, va bene? Ora, a me dispiace doverlo dire, ma purtroppo qualcuno deve farlo. Ci ritroviamo in una situazione apocalittica, brutta, negativa, triste, angosciosa, da mettersi le mani nei capelli per quelle persone che ancora li hanno in testa. Io vi chiedo di analizzare l'Italia ora come sta vivendo. Paralisi economica, problemi di occupazione, problemi a livello psicologico, perché le persone si stanno deprimendo, sta subentrando la depressione, che in alcuni casi, azzardo a dire, è addirittura una depressione maggiore. Ecco, tutto questo va ad incrementare, va ad aumentare una sensazione di malessere che va serpeggiando, che va a intrufolarsi nelle menti degli esseri umani, va bene? Quindi noi ci ritroviamo con persone che sono depresse, non sanno come riuscire a pagare le bollette che arrivano, però c'è Conte che ci dice, io vi do, io vi ho dato 600 euro. Ora, non tutti hanno visto questi 600 euro. E poi azzardo a dire che 600 euro, per come la vedo io, non bastano. Secondo la mia opinione, 600 euro sono una presa per il culo, va bene? E questa è la mia opinione, va specificato, perché? Perché se una persona non dice che è la sua opinione, potrebbe essere denunciato barra guerrelato. Quindi bisogna sempre dire che è la propria opinione, va bene? Vi insegno questo piccolo trucco, vi insegno questo stratagemma per evitare di cadere nelle fauci della legge, della giustizia. E la giustizia è farraginosa, e la giustizia è un labirinto senza uscita, perché una volta che una persona ci finisce dentro, è difficile riuscire a togliersi da quella situation, da quella situazione, e uscirne sereni e tranquilli, va bene? Quindi, io vi dico, non se ne può più piccoli imprenditori, piccoli commercianti sono costretti a chiudere, parrucchieri, barbieri idem, bar, io ho un bar che è aperto da poco tempo vicino casa, e questo bar aveva aperto poco prima della pandemia, era piccolo, qualche cliente ci andava, io sono convinto che questo bar, e lo dico, lo metto nero e su bianco, andrà a chiudere, andrà a chiudere i battenti, per colpa del fatto che c'è questo coronavirus, e i call center, i call center lavorano tutti vicini, tutti attaccati l'uno all'altro, ok? Lì circola il virus, potrebbe circolare. Ecco, qualcuno mi ha detto, ma tu sei un fallito, perché tu sei un addetto al volantinaggio, caro Leandro, il caro coglione, il signor coglione Leandro, conoscitore italiano, è vero che fa il volantinaggio, però intanto il coglione può lavorare, perché io non ho contatti con esseri umani, se non con un ragazzo che mi dà i soldi, ma che sto a debbia distanza quando vado a prendere i soldi, ma la mia attività la svolgo solo sulle automobili, ed sono vuote, non c'è un contatto con altri esseri umani, non è che ci sono esseri umani che mi guardano, mi vedono, mi toccano, mi stringono e via di seguito, va bene? Quindi attenzione a quello che viene detto, a quello che viene fatto, va bene? E ricordatevi una cosa, l'Italia continua a sopportare, a dover sopportare una situazione brutta, schifosa e terribile come questa. A ognuno le proprie conclusioni. Ciao da Leandro, conoscitore italiano.